Siete alla ricerca di un deck che possa dire la sua nel tier di OP05? Siete stanchi del solito sagazuki e volete optare per un leader che ne possa contrastare le dinamiche? Quale pirata potrà soddisfare tali esigenze sfidando a viso aperto il grande ammiraglio della marina? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. OP05 sta regalando a tutti gli appassionati uno dei meta più vari che si siano mai visti in questo gioco di carte collezionabili, calcolando che Barba e Zoro, ritrovati i preziosi supporti reintegrati dopo la sospensione della Banned e Limited List, sono tornati a far parlare di loro entrando di diritto nella fascia alta dei deck più competitivi assieme a Enel, Katakuri e Sakazuki. Dalla lontana isola di Fusha, in più un ragazzo capitano che nel cuore è un veterano, sta iniziando a far paura, presentandosi nella sua veste Total Purple, che in questo quinto capitolo ha ricevuto dei supporti davvero devastanti atti a rendere la vita di ogni avversario realmente difficile. Sto parlando di Luffy Viola. Nella profile di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendone le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni di cappello di paglia. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Luffy Viola, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5000 punti di forza e 5 vite a supporto vi permetterà una volta per turno, nella vostra fase principale, di prendere una carta dalla pilla delle vite unendola alle altre che avrete in mano, aggiungendo di seguito un don in stato di attivo, se ne avrete 0 o 3 o più di 3 sul campo di battaglia. La decklist in questione possiederà un tasso di difesa molto importante e vedrà il quartetto di Khalifa, Ulti, Kid Blocker, Drake, Page One, Magellan, Poli, Kid costo 5, Blocker, Queen, Kid costo 7 e Kaido Rush, con la coppia di Apu per la parte character, assieme alle 4 copie di Gangnam Jet Gatling per gli event che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro le Ulti in combinazione con Page One per aumentare la presenza in board in un singolo turno, i Low Blocker, i Kid sia a costo 5 che 7, i Magellan, le Queen, i Kaido e le Gatling. Mentre il resto servirà a difendervi come meglio potrete dagli assalti rivali, calcolando che diverse volte il vostro fattore di forza verrà aumentato minimo di 1000 grazie agli Eustas del decimo starter e per fungere come costo di innesco per l'utilizzo degli event presenti nel mazzo. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra Kid costo 5 e 7 e tutti i character che rimanderanno i don nella propria pila dedicata. Grazie infatti all'effetto del magnetico di OP05 non solo annullerete il costo di attivazione dei character che ne prevederanno il costo di innesco, ma disporrete di risorse pronte per essere impiegate nuovamente scatenando combinazioni letali che metteranno a ferro e fuoco le difese rivali. Un dubbio che attanaglia chiunque inizi a vestire panni di paglia è il seguente. Quando devo prendere vita per rampare? Ebbene, personalmente lo faccio sempre nel mio secondo turno, così da velocizzare l'entrata in campo di un drop a 4 o 5, a seconda se parto primo o secondo, ma ne parleremo fra poco, e quando mi avvicino ad avere 9 don per impiegare Kaido e mettere pressione offensiva in campo. In più, oltre all'utilizzo degli event, cercate di aumentare la forza del leader quante più volte possibile in modo tale da sopravvivere nei turni critici, ad esempio quando l'avversario impiegherà massicce forza in gioco e non avrà la possibilità di attaccarvi con 5 o 6 K di forza, evitando di assottigliare così il vostro reparto vitale che sarà fondamentale per attivare l'abilità ramp dell'intero deck. In più, se avrete un low in mano, soprattutto ad inizio match, una strategia di gioco che ho testato e mi è tornata utile è stata quella di attaccare con il leader a turno 2, aspettare che l'avversario nell'evenienza prendesse vita ed in quel momento innescare l'abilità di Luffy per aggiungere un don pronto, utilizzando il medico della morte subito dopo, per far scartare due carte a rivale. Due carte che, se selezionate con un pizzico di fortuna, di certo potranno agevolarvi nell'operazione di successo finale. Per quanto riguarderà invece le difese, ci saranno le Queen, che oltre a subire attacchi al posto vostro vi permetteranno di pescare due carte e scartarne una, gli stessi low e i kid a costo 5, che in combinazione con i primi due azzererà la mancanza di Don, che altrimenti vi vedrà privarvene per l'intera durata del turno corrente. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcuni dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Ragionate per bene ad ogni singola mossa. Questo è un deck con forti influenze di tempo e quindi ogni giocata dovrà essere ben ragionata per non cadere in vicoli cecchi che vi faranno sprecare solo turni a Don preziosi che invece potevano essere utilizzati meglio. In caso però vogliate una guida rapida sul come fare a prendere sempre una buona decisione, il tutto verrà riassunto in una sola parola. Blocker. Giocateli sempre per garantirvi almeno un attacco a vuoto da parte del vostro avversario e dalle retrovie potenziate quanto basta il leader per sferrare assalti in compagnia dei colossi presenti nel deck per mettere in difficoltà la board rivale. Per la fase offensiva questo deck avrà le ulti, gli Apu, i Page One, i Magellan, i Poli, i Kid, costo 7 e i Kaido, che vi garantiranno una solida presenza in campo che potrete starne certi attirerà le attenzioni di chi vi giocherà contro, che dovrà preoccuparsi per forza quindi di toglierli di mezzo il prima possibile utilizzando risorse fondamentali per la sua strategia di gioco. Per quella difensiva come detto ci saranno le Queen, i Kid, costo 5 e i Lo dello Starter, che più volte mi hanno protetto da offensive nemiche, frenandola a sottigliarsi delle vite che avevo a disposizione permettendomi così allo stesso tempo di usufruire del potere del leader all'occorrenza, potenziando ancora di più la mia fase d'attacco nei turni seguenti. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo la combinazione tra ulti e Page One, un Kid costo 5 o un Lo, una Queen ed un Event. Se starà così potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, come per Sakazuki anche Luffy è un top tier ed infatti è uno dei pochi deck in circolazione a dare del vero filo da torcere al grande ammiraglio rappresentando per lui una vera e propria kriptonite. Allo stesso tempo state molto attenti al giallo e ai suoi due rappresentanti e soprattutto a Belobetti, che con le sue dinamiche di rush puro a volte vi farà mettere tutto a posto dopo tre turni di attacchi costanti ad 8k di minima. Per il resto non abbassate come sempre mai la guardia, è nei deck esotici che si nasconde l'imprevisto, quindi concentrazione e giocate pensate. Per la win condition il consiglio che posso darvi in base alla mia esperienza personale sarà, ancora una volta, quello di valutare ogni mossa come se fosse l'ultima del match, quella decisiva. Regolate ogni giocata nei primissimi turni e arrivate nel late game forti grazie a carte come kid a costo 7 e protetti dietro i vostri blocker. Appena potrete l'impiego di Kaido sarà fondamentale per accelerare la fase offensiva e carte come Magellan o Poli vi verranno in soccorso se vorrete dare fastidio rispettivamente ai don o ai character avversari. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno i kid in entrambe le versioni, i low, i Magellan, le queen, i Kaido e le Gatling. Per tutto il resto potrete valutare le sostituzioni che più si adatteranno al vostro stile di gioco, magari migliorando anche alcuni aspetti che durante un torneo vi torneranno utili. Infine per la fase counter avrete a disposizione 12 più 2000 e 18 più 1000 che potrete utilizzare all'occorrenza se non avrete a disposizione gli event presenti nel deck. Ricordate ancora una volta, impiegare un counter anche più 1000 nel momento più opportuno vi consentirà di salvaguardare una vita che potrete prendere da voi, utilizzando poi un personaggio che, altrimenti, non avreste avuto modo di giocare. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Luffy parte per secondo, ma anche primo non soffrirà molto, o almeno così è come l'ho attestato personalmente. Calcolate che se partirete per primi, a turno 2 potrete utilizzare un drop a 4 come low, ulti con page 1 o apu, mentre se andrete per secondi ci saranno i drop dispari rappresentati da Magellan, Kidblocker, Queen e se vorrete mettere presenza a board, poli. Kaido e Kid a costo 7 poi andranno automaticamente in curva se vorrete velocizzare le dinamiche di gioco e attenti come sempre a non prendere decisioni affrettate. Riflettete per bene, soprattutto calcolando se la situazione di gioco vi permetterà di fare una mossa così aggressiva. Concludendo, Luffy è un mazzo che personalmente mi piace davvero molto e con i supporti viola che sono arrivati con il decimo starter e il quinto set, diversi aspetti che presentavano delle lacune sono stati colmati. Spetterà quindi a voi intraprendere il mare vestendo i panni di cappello di paglia, sbaragliando ogni nemico che si parerà tra voi ed il titolo di re dei pirati. E voi avete già testato le dinamiche che muovono questo leader? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.